Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio, Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzana e BV1 variante in direzione di Bologna, in Fipilicoda per lavori in direzione mare tra Montelupo ed Empoli Est. Per la cantieristica in A11 questa notte in orario 22.06 per lavori alla pannellatura elettronica sarà chiuso il tratto compreso tra Pisa Nord e Lucca Est verso Firenze con conseguente chiusura dell'entrata della stazione di Pisa Nord. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario l'Eurostar Frecciarossa 95.20, Napoli centrale e Milano centrale sta viaggiando con 20 minuti circa di ritardo. Il transito a Firenze e Santa Maria Novella al momento previsto alle 12.10, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!